Voi parlate di caos tamponi, un problema che non può andare più avanti. No, questa è la fotografia della sanità diretta da Marsiglio e da Nicoletta Verì. Marsiglio irrigidisce le regole del governo chiudendo le scuole al 100% e non al 75% e poi consente che i ragazzi, file di ragazzi insieme ai genitori, stiano davanti al pronto soccorso per ore e per giorni. Per poter fare il tampone. Sappiamo che la risposta al tampone non è una risposta rapida, ma ci vogliono anche 15-20 giorni per averle. Allora ci chiediamo che cosa questo governo regionale abbia fatto da aprile ad oggi. Il 24 aprile annunciano l'acquisto di questa macchina per tamponi da 2.500 tamponi al giorno. Dopo 20 giorni si rompe, oggi non sappiamo a che punto questa macchina sta, se sta lavorando, se non sta lavorando. Il governo aveva dato a tutte le regioni la possibilità di poter prendere infermieri, medici, psicologi, OS per potenziare i reparti, per potenziare il pronto soccorso. Chiediamo alla regione perché non ha fatto contratti per il personale. Noi siamo stati in questi giorni inondati da tantissime richieste di aiuto da parte di famiglie che nonostante l'ASE gli abbia chiesto di fare il tampone perché probabilmente interessati da focolai scolastici non riescono a fare il tampone e non hanno da giorni, in alcuni casi 10, 12, 15 giorni, il famoso appuntamento con l'ASE per effettuare il tampone. Questo chiaramente sta bloccando l'intera famiglia perché poi una volta fatto il tampone ci saranno alcuni giorni necessari per la lavorazione e quindi per l'esito del tampone e vediamo che basta andare in via Fonte Romana, quindi presso l'ospedale, vedere decine e decine di bambini, di famiglie che sono in fila, finora non sotto la pioggia, per fare il tampone. Crediamo che sia necessario invece cambiare questo sistema, sbloccarlo e far sì che ad esempio in Regione c'è tra qualche giorno un voto su una mozione del centro cinista per effettuare come in Emilia Romagna i tamponi rapidi in farmacia, crediamo che sia il modo per sbloccare oggi questo imbuto che si è creato in questa città.